Ciao ragazzi, nuovo video tutto Tec, continuiamo con la gamma di accessori che ci ha inviatato la Omaeo e noi le ringraziamo per quanto riguarda il nostro sistema di allarme. Cosa presentiamo oggi? Oggi andiamo a presentarvi un rilevatore di movimenti, eccolo qui. Sarà comunque un video abbastanza veloce perché è una semplice installazione. Anche perché a Omaeo abbiamo visto che rileva molto velocemente gli accessori. Comunque ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e attivate la campanellina così da non perdervi i prossimi video in uscita. And now... The Saigla! The Saigla! Partiamo come consuetudine con l'unboxing. La confezione che contiene tutto ciò che vedete, manuale in inglese, manuale in italiano. Questo serve per poterlo collegare al muro e orientare poi con questa sfera che va montata nella parte posteriore del sensore, il sensore stesso. Qui ci sono tasselli e fissure per poterlo fissare al muro tramite questa staffa e questo che è il sensore di movimento. Avviciniamo il sensore alla nostra unità centrale e andiamo a rimuovere la linguetta che attiva le batterie. Come potete sentire ha emesso tre suoni veloci, tre bip veloci. Ora dall'applicazione entriamo all'interno di Omni Alarm, clicchiamo su Accessori, clicchiamo su Aggiungi, il sensore è attivo. E tornando indietro, schiacciando la X, come potete vedere ha rilevato il rilevatore a infrarossi. A questo punto torniamo indietro. Se noi andiamo ad armare l'allarme... Sentite che suona perché appunto ha già rilevato il movimento in quanto noi siamo davanti all'allarme. Eccoci ragazzi, finito il video, è stato semplicissimo, installazione molto rapida, una volta tolta la linguetta viene riconosciuto, l'unica accortezza, tornate indietro nell'app, rientrate e vi riconosce il sensore al volo e... E basta, godetevi, cioè speriamo di no, l'allarme... Godetevi piuttosto altre cose, ma no... Comunque, ottimo prodotto, come sempre ringraziamo ancora la Omayo per averci inviato questo prodotto. Vi invitiamo anche ad andare a verificare sul loro sito tutta la gamma di accessori per quanto riguarda la domotica domestica. Vi lasciamo sotto il link appunto al loro sito e il link al prodotto direttamente, così se lo vorrete acquistare trovate il link. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!